Nel precedente video abbiamo visto come collegare Excel ad un sito internet e nello specifico abbiamo estratto le quotazioni della borsa italiana che in quel sito vengono riportate in tempo reale. Ora, per aggiornare il dato in Excel potremmo fare un clic destro aggiorna, ma se io volessi fare questa operazione in automatica, ovvero Excel dovrebbe aggiornarmi questo dato ogni X minuti. Come posso fare? È molto semplice. Basterà andare in alto nel menu dati, ci spostiamo nel box query connessioni e premiamo questo bottoncino. Si apriranno le connessioni che abbiamo importato, quindi andiamo su quella di nostro interesse e facciamo clic destro. Andiamo in fondo e premiamo il tasto proprietà. Qui basterà flegare aggiorna ogni e gli diciamo ad esempio ogni minuto. Perfetto, nel momento in cui noi gli diamo ok, al trascorrere di ogni minuto Excel andrà ad aggiornare in automatico il dato dalla fonte esterna.